Dottor Marino Dell'Acqua, buongiorno, è il giorno della liberazione, lei, direttore socio-sanitario dell'SST Vallolona, debutta anche come vaccinatore. Come mai proprio oggi? Il motivo di questo suo gesto che comunque è molto significativo? Essenzialmente volevo stare vicino a tutti gli operatori che stanno lavorando in questo periodo, far sentire la mia vicinanza contribuendo anch'io a questa campagna vaccinale. Il giorno della liberazione penso che sia scontato pensarla come la liberazione da questa pandemia, per cui il mio contributo oggi è perché essendo domenica ho meno cose da fare rispetto alla settimana, per cui riesco a dare questo tempo volontariamente per questa campagna vaccinale. È un momento importantissimo, dobbiamo proseguire, vaccinare il più possibile e noi ci siamo e quindi lo faremo. Infatti anche oggi che festa vediamo tantissime persone, oggi avete anche una quota di persone che vaccinerete anche in questo giorno di festa? Sì, abbiamo circa 2000 persone che verranno oggi come prima dose a fare il vaccino, facciamo sia AstraZeneca che Pfizer e proseguiamo così e continueremo a vaccinare nei prossimi giorni. Grazie, buon lavoro! Grazie a voi!